Eccomi qua, sono ricomparsa, richiamate tutte le unità, sono a Palazzo Chigi. Voglio dire che sono grata per aver avuto la possibilità di riposare un po', di ricaricare il batteria e di passare ovviamente del tempo con mia figlia. Voglio dire che sono consapevole di essere una persona fortunata anche per questo, in quella che alcuni, attentissimi, osservatori hanno definito la difficile estate della Meloni. Io so che invece le estate difficili sono quelle di altri, di chi ad esempio le vacanze non ha potuto farle. E allora voglio dire a queste persone, ma voglio dire a tutti gli italiani, che farò buon uso di questa energia che ho potuto mettere da parte in questi giorni, anche se non ho chiaramente mai smesso di fare il mio lavoro, di seguire quello che accadeva, di essere attenta alle mie responsabilità. Saprò fare buon uso di questa energia, sono pronta, grazie, sono pronta a proseguire il mio lavoro con ancora maggiore determinazione.